E' un centrodestra che punta sull'unità e sulla coesione della coalizione più che sui nomi dei candidati sindaci e quanto emerso dal vertice tenutosi nella sede dell'Udc a Bari in cui ad incontrarsi sono stati tutti i responsabili regionali, provinciali e cittadini della coalizione con i rappresentanti di movimenti e associazioni civici per discutere e fare il punto sulle prossime amministrative nel capoluogo pugliese. L'incontro è tra l'altro servito anche ad allargare l'impegno a movimenti ed esponenti dell'associazionismo vicini al centrodestra, due su tutti Bari rinasce di Tommi a Tanasio e Bari nel cuore di Nincea. A chi chiede il fatidico nome Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udcino, i Moderati e il nuovo PSI assicurano che la scelta è imminente perché è già al vaglio dei vertici regionali e nazionali. Bari è una città fondamentale, non soltanto per la regione ma è fondamentale proprio per il centrodestra, quindi se c'è un momento di riflessione in più è dovuto alla grande rilevanza che noi diamo alla città capoluogo e al candidato sindaco. Come ho detto più volte noi non cerchiamo un candidato ma il candidato vincente. Mi rendo conto che il tempo passa ma se il tempo qualche volta passa utilmente senza che ci siano come posso dire spargimenti di sangue, qui non solo non c'è sangue ma c'è miele nell'ambito del centrodestra, questa è una cosa utile per la città e per il suo destino. Come centrodestra ci stiamo riunendo umilmente e con serietà per avviare un programma e un progetto che possa essere quello vincente per i cittadini baresi, lo facciamo con la coalizione unita e con tante anime civiche che sono vicine al nostro percorso. Su questo noi crediamo che ci possa essere una convergenza ulteriore di figure e anime che vogliano seguire il percorso del centrodestra nel socco del governo Meloni e per dare alla città di Bari una continuità che ad oggi da parte del centrosinistra non c'è stata. Credo che la prima notizia sia che mentre inviare Davide nella sede del PD ci si riunisce per escludere candidature, escludere ipotesi. Noi oggi invece torniamo a riunirci come centrodestra per tracciare un percorso comune che ci porterà alle elezioni amministrative di Bari dopo 20 anni di sinistra a cambiare definitivamente pagina. Credo che questa sia plasticamente la differenza più grande fra quello che non è il campo largo, cioè loro, e la nostra invece che è una casa comune in cui ci si ritrova con amici di vecchia data e soprattutto con idee e programmi condivisi. Ci sono molti profili che sono sotto la lente di ingrandimento del centrodestra, tutti validi, tutti in grado di vincere le prossime competizioni elettorali. Noi riteniamo di rappresentare un valore importante nell'ambito del centrodestra. Abbiamo messo in piedi in campo soprattutto una squadra, una coalizione completa, unita, compatta, che oggi discuterà su vari temi, sui vari nomi, sulle possibilità che ci sono per mettere in campo la migliore squadra per poter vincere le amministrative a Bari, perché l'obiettivo nostro è sicuramente quello di vincere le amministrative su Bari città e credo che siamo a buon punto. Noi lavoriamo sul territorio con la gente, quindi al di là di quello che potrà essere il candidato sindaco del centrodestra, tutte le forze politiche che compongono il centrodestra e che si stanno allargando anche al campo del civismo, stanno lavorando sui territori.